Musica Ciao a tutti ragazzi sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati sul mio canale Il gioco che vi presento oggi si chiama Savage Lands Savage Lands è un titolo indie, da poco, forse poco più, al massimo un mese, un mese e mezzo Uscito dallo Steam Greenlight, quindi in vendita e neccesso anticipato su Steam Ed è uno dei titoli più interessanti e di genere survival che ho scoperto negli ultimi tempi Savage Lands è un survival game quindi come potrebbe essere Rust Il nuovo Ring of Kings di cui ho fatto lo speciale ieri che vi ricordo uscirà Quindi diamoci un occhio nel caso potesse essere carino L'11 di marzo e altri giochi appunto a tema survival come che ne so The Forest E Stranded Deep, The Long Dark e altri giochi La figata di questo è che parte con l'idea di essere un survival fantasy Quindi in ambientazione fantasy, completamente fantasy Ambientazione loro, siamo su un'isola dove ci sono orchi, goblin, skeletri, warg, i lupi Nel senso draghi, ci sono già anche draghi e creature un po' strane Tipo, non lo so, ente e cose del genere che escono dai boschi Il gioco al momento ospita già la modalità online purtroppo soltanto per 8 giocatori Però parte con dei grandi presupposti con delle, secondo me, grandi idee E gli sviluppatori ci fanno sapere che più avanti nello sviluppo appunto del gioco ci saranno addirittura dungeon E molte cose da fare Ovviamente il gioco parte come un pvp Bisogna esplorare il mondo, ammazzarci Ma ci sono anche i mossi nel mezzo a romperci i coglioni Ora noi facciamo create new character Lo chiamo, boh, Jade Visto che Coridan l'ho già fatto Ok Choose game Essere Play Vediamo un po' dove era arrivato Guardate bello Sul cucuzzolo di Obon Sulla torre Il drago che osserva sotto Vi mangerò tutti Tutti Parti o non parti? Devo dire che è già carino anche come musiche Come grafica Abbastanza Abbastanza originale Un pochino particolareggiata se vogliamo Allora partiamo intanto Abbassando la musica che sarebbe meglio O almeno gli effetti Allora Messo tutto a fantastic Custom Ok Partiamo con la descrizione ovviamente Dell'add di gioco In alto a sinistra Vedete ci sono tre barre Che inizialmente per capire cosa sono Vedete sono Health Hunger E Cold Allora 98 per 193 Il primo in alto È il livello di freddo Perché in questo gioco Contenuto Nel inizio Il nostro mino sarà praticamente nudo Vestita alla cazzo di cane In questo gioco Inizialmente Dovremo trovare Da accendere un fuoco Quindi dovremo C'è anche il sistema di freddo E il personaggio morirà congelato Di freddo Che siamo in un ambiente nordico Fate conto Un'isola dei vichinghi Quindi quello in alto Che vedete La barra blu È A parte accidente all'emicorna C'ho la webcam Comunque vabbè Ve lo descrivo facendo vedere qui Non ci pensavo E scusatemi Non la posso spostare Perché è montata così la grafica Porco mondo Comunque vedete C'è l'health C'è l'hanger system Quindi la fame E il freddo Di base ci dà Una Una sacchetta In cui dentro abbiamo queste cose Della carne E Già cotta Delle mele E tipo delle castagne Abbiamo dei clot Abbiamo l'accetta Che dobbiamo spostare Qui Per equipaggiarla Ed abbiamo delle rocce Premendo il tasto J Ci va nei primi obiettivi Nei primi achievement Che dovremmo sbloccare nel gioco Tipo una specie di missione principale Per fare un piccolo tutorial E dire Fai queste cose Fatte queste cose qui Hai imparato a fare un po' di tutto Questa è la schermata J E poi c'è la schermata K Che è quella prettamente di crafting Vedete All'inizio posso fare Crew datchet Armature Niente Sacche Niente Però posso fare la torcia E non posso cucinare Nessun cibo particolare Perché Dovremmo scoprire le ricette Ma non soltanto In Savage Land Dovremmo anche Mi sta scrivendo Hunt E dovremo anche E soprattutto Costruire tavoli da lavoro E oggettistica varia Per appunto Sbloccare altri crafting Allora Intanto Prendiamo un po' di cose E vi faccio vedere Una costruzione di base Come nel più classico Se vogliamo Dei giochi di costruzione Che un po' Erraste il pad di tutto Ma anche Fuso secondo me Adeguatamente Con Con il nuovo Deforest E voglio costruire Che ne so Un Wooden Shack Quindi prendo il Wooden Shack Lo Posiziono tipo Qui E poi Piano piano Ovviamente Ci aggiungo Gli oggetti Che troverò in gioco E la casa Verrà costruita Ora noi andiamo Qui a un albero Tipo questo Allora Tagliamo La legna Magari però Che mi ruba posto Ora come ora Queste piantine Io le butterei via Tanto non Non mi servono Allora Tagliamo la legna Wood Wood E Wood E ovviamente Come vedete La posizioniamo Ne ho posizionate 3 su 35 Piano piano La casa Comincerà Ad apparire Ora vi faccio vedere Poi ovviamente Facciamo un salto Questa Butta giù E Ok Altri pezzi Di legna E prendiamo Da questi Si dovrebbero Prendere invece I rametti Forse Forse non Qui Ma qui Si Vedete ecco Wood stick Che servono Anche questi E Continuiamo a Prendere anche La legna Dagli alberi L'accetta Quella di base Durerà Ben poco Vi dico La verità Quindi ci vorrà Servirà Assolutamente Che ne costruiate Un'altra Nel minore Tempo possibile Ma Ne troverete Anche in giro Ora vi mostro Dove Intanto Andiamo avanti Qui nella costruzione Nella nostra casa Taglia 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 E' uno dei titoli Più interessanti E vi dico la verità Come titoli In accesso anticipato E' uno di quelli Che mi sta piacendo di più Anche perchè E' carina Come D'Ecce Voleva dopo un po' di tempo Un survival L'ha metato nel fantasy Ecco Vedete piano piano Comincia ad apparire Come su The Forest Ma da mano che mettiamo I pezzi Il personaggio Comincia ad avere freddo Quindi Oltre a Costruire la casa Io direi Che è giunto il momento Boh magari non davanti Alla porta Qui Mettiamolo qui Così E' giunto il momento Di farci anche Un No Con Jay Scusate Un focherello Quindi un focherello Da campo Che noi posizioniamo Qui E ci iniziamo A mettere rocce E Come Uguale per Per la casa Ci cominciamo a mettere La legna E tutto quello che serve Anche perché vedete Il mio personaggio Sta Letteralmente Congelando Perché adesso Il cold è al 53% Quindi se non faccio Un fuoco In tempi brevi Il mio personaggio Morirà Assiderato Comunque Andiamo avanti Friamo di costruire la casa E poi vi faccio vedere Voilà In questa gelida Notte Nordica Nella tundra Ci siamo costruiti La casetta Come avete visto Il progetto che stavo costruendo E il fuoco Che al solito sono bioccolo Ce l'ho messo un po' troppo attaccato Comunque beh Se non mi brucio E già sarebbe qualcosa Questa È l'entrata Della nostra casetta Che ovviamente Non è illuminata Perché di notte In un gioco fantasy Medievale Non è che ci sono Le lanterne ad olio Da appendere Però Forse se non mi ricordo male C'era la possibilità Di costruire Vediamo un po' anche No Servirebbe Ah Poi vedete Bella Che nel crafting C'è tipo La casetta normale La La wood Quella fatta di legna Quella fatta di roccia Poi c'è la wooden house Ancora più grande Guardate bella la town hall Perché si possono fare Già piccoli villaggi E poi tutto il resto Vabbè si possono costruire Armi Vestiti Sacche E Cibo vario Comunque Io ora qui apro Esco Ancora una volta Se riesco Chiudo la porta Mi avvicino al fuoco Mi avvicino al fuoco Funziona sto cazzo di fuoco Mi avvicino al fuoco E mi dovrebbe dare le opzioni Per cucinare Però no La carne ce l'ho già cotta Quindi direi che è il caso Di mangiarci un po' Un pezzetto di carne Buono A parte no Vabbè la fame ce l'avevo già Al massimo E o il fuoco Si è spento O mi sta prendendo Per il culo Vediamo un po' se brucia Vediamo un po' se brucia No 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 Mi sa che il fuoco Fa questa animazione qui Ma si è spento No 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 Non si è spento un cazzo Non si è spento per niente Ah vabbè si Perché sono al freddo di notte Comunque vabbè Il freddo La quantità di freddo Sta scendendo molto più lentamente E il personaggio Fino a che Sta qui accanto Si dovrebbe scaldare Ora non capisco perché Sta continuando Invece a subire Il freddo Però se mi butto Sul fuoco Si fa del male Quindi intanto Creiamoci un po' di bende Che si faceva con K Mi sembra da qui Ok Benda 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 Direi di farne 4 E selezionandole Poi ovviamente Si usano E ci curiamo Dei punti ferita Persi Soprattutto del sanguinamento Io ho visto un pezzo di legno Woodlog Prendiamoli Che servono sempre Woodlog Anche perché A questo punto Sono curioso Quasi quasi Di costruire Un altro focherello Per vedere come mai Quello O se è spento E gli manca l'animazione O vediamo un po' Campfire 3 woodlog 2 flint Vediamo se c'ho tutto 2 flint Un woodlog Ce l'ho E 6 stone Che ovviamente Le stone Le pietre Non ho No però Cioè il fuoco Dovrebbe essere acceso Quello Non capisco perché Mi stia dando Questi problemi Proviamo un attimino A tagliare un po' Di legna Oh l'ultima volta Che ci ho giocato Mi scardava ragazzi E qui diventa Davvero Buh Vabbè 3 woodlog Noi ne facciamo un altro Tra l'altro Non c'è nemmeno L'interazione Che ne so Ravviva fuoco E cose del genere Vabbè Se faccio così Muoio dal freddo Ma se mi chiudo in casa Forse dovrei subire Meno freddo Proviamo un po' Se si ferma E cazzo Anche io ho fatto il fuoco Troppo vicino Sì Stando in casa È più stabile Cioè scende Perché ovviamente Qualche spiffero entra Ma sta scendendo Molto 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 Più lentamente Quindi sì Proviamo a fare una cosa Se io metto un fuoco in casa Proviamo a fare così Allora Jay Mi sa Che quasi quasi Non mi ce lo fa Non mi ce lo fa nemmeno costruire Fuoco in casa Non si può fare Cazzi Niente Allora devo uscire E l'ha messo Qua fuori Allora Mettiamo tutte le cose Che servono E ovviamente Mi mancano Sei rocce Come vedete Sono riuscito E il freddo Inizia a scendere Più velocemente Dal menu Qua sotto Vediamo se riesco A salvarmi Trovando sei rocce Ma la vedo dura Allora Siamo arrivati Al primo villaggio Del gioco Questo è un villaggio Standard Che tutti i giocatori Potranno visitare E tra l'altro Sto morendo Dal freddo Vedo che qua giù C'è una forgia Dio ti prego Fai che la forgia Mi riscaldi Che sto morendo Che sto morendo congelato No Non riscalda Un cazzo E ovviamente Anche questo Non basta Quindi Rinchiudiamoci Dentro una casa Mangiamoci Un paio di mele Che non fanno Vabbè Fanno risalire Un minimo di vita E questo è il primo villaggino Che troviamo nel gioco Disponibile per tutti E lootabile C'è un po' di loot E là giù in fondo Vedete Dieta la neve C'è la torre del drago Anche qui mi pare Non ci fosse nulla Dai Dai Non voglio morire Assiderato Un'ascia C'è qualcosa Oh Uno scheletro No Vi faccio vedere Uno dei primi monster Che ci sono nel gioco Di notte Sbucano gli scheletri Aia Cazzo Attaccare E schivare Ma ci tronca Già abbiamo poca vita Eh Sono messo malissimo Sono messo malissimo E questa accetta qui Fa un po' schifo E Vabbè Ormai sono morto Il sistema di loot Ovviamente possiamo lootare Tutto quello che ha Il morto E ora muoio io Perché non ho più vita Dobbiamo aspettare 10 secondi Il sistema di spawn Non ho capito Vi dico la verità Perché Mi sono avvicinato Al focherello E non Non mi riscaldava Comunque riparto Quando si muore Si riparte Nudi Completamente nudi Senza niente Quindi nemmeno un'accetta Dovremmo rifarci tutto Di base E questa è la casetta Il progetto che avevo fatto Inizialmente Siamo ripartiti Senza niente Quindi perfetto Non c'ho nemmeno Un'accetta Non c'ho assolutamente Niente E Direi che è il momento Di morire Assiderati O perlomeno Tornare sul punto Dove siamo morti Per vedere Di recuperare I nostri oggetti Vediamo un po' Se ci si fa Stavolta Vai Che ci sa La percentuale Di cold All'85% Ce la posso fare Vediamo Ragazzi Lo vedete muovere C'è il drago Sulla torre C'è il drago Sulla torre Che ogni tanto Quando sta lassù In cima Non rompe coglione Nessuno Però ogni tanto Si stacca Figata Comincia a volare Per tutta la mappa Di gioco E ogni tanto Scende Per mangiare Insomma Cibarsi A fame Di cacciagione Quindi ci sarà Anche la possibilità Di combattere Il drago Ecco magari Prima createvi Un'armatura Insomma qualcosa del genere Perché penso che sia dura Non ho ancora avuto modo Di combatterlo Perché me ne sono sempre Tutta la larga Però Non so già più Il sole Ma cos'è Ragnarok Dio buono Guardate bello Il drago Sulla torre Fino a che sta lassù Oii Drago Ci sei? Buona Sembra Skyrim Ragazzi Sembra veramente La torre di Skyrim Dove c'era il drago Che spettacolo E mi sembra Che non posso Nemmeno salirla Statorre Perché deve essere Tutta chiusa Sembra che si Sia chiusa Per evitare Che uno vada su Dal drago Stia calmo Signor drago Non si arrabbi Non monto Tutta Tutta Stoppinata No chiusa Cioè non è Non è una torre Fatta dagli umani È proprio un piedistallo Per farci dormire il drago Almeno non gli rompe il cazzo Nessuno Eh no È completamente Chiusa Vediamo un po' Questo si allontana Drago Draghetto È volato via È volato via Il bastardo Non c'è più Alle prime luci dell'alba Oh Cazzo Non morti E qui c'è una torre Dimmi che c'è un'ascia Dimmi che c'è un'ascia C'è un cazzo No c'è un'ascia Guardate questo cavaliere Non morto Oio Oio Ho colpito anche dai Dammi un'ascia Per combattere Cazzo Maledetto Vuoi a correre No non c'è più il drago Il drago è partito Eh ragazzi Vieni T'ammazzo a puntate Vieni T'ammazzo a pugni Vieni ti faccio vedere Non morto di merda Che t'ammazzo a pugni Vieni Eh no Mi sta troncando Via 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 Se c'avevo un'ascia Se avessi avuto un'ascia E' sempre lì che mi segue Eh sì Se l'aveva mia più del cazzo Minchia Peggio degli zombie di H1Z1 Non si staccano eh Aiuto Guarda Ce l'ho dietro Non stacco ragazzi Non stacco Devo morire così Con disonore proprio Oh Una creatura Attacca lui Attacca lui Attacca lui Attacca lui Eh mononasino Che roba è Oh Cioè attacca lui Ma perché non morto Attacca me Perché non è scemo Dice Ammazziamo l'umano Tanto la carne Non mi serve Porca puttana Aiuto Ce l'ho Ce l'ho proprio dietro ragazzi Ce l'ho veramente Posso salire? No Ce l'ho dietro E non ho niente con cui Oh vaffanculo Merda mi sono caccato addosso Mi sono caccato addosso Vaffanculo Mori Mori schifo Ai Insomma il sistema di combattimento Fa ancora un po' Vieni Non è morto eh Vabbè Ovviamente Combattendo A mani nude Non è che potevo Pretendere D'ammazzare Il non morto Vaffanculo Vaffanculo Respawn Boia Mi ha fatto respawnare direttamente E mezza armare Insomma non è facilissimo come gioco ragazzi Soprattutto secondo me Questa giunta del freddo Che ci congela È una bestia È peggio delle creature che ci attaccano Dei mostri Dei mob Perché Cioè si muori veramente dal freddo Non ho capito perché Avvicinandomi poi ci studierò Ovviamente magari Se vi piace per un prossimo episodio Fatemelo sapere qui nei commenti Voglio studiarci perché il fuoco non funzionava Perché l'ultima volta che ho costruito il fuoco E mi ci avvicinavo Invece saliva La La salute E non vorrei che con questo personaggio Non ho costruito quella casa Cioè quella casa l'ho costruita con un altro pg Che non era lo stesso E quindi Non mi fa partire l'evento del fuoco Però è strano Boh perché Mi ricordo l'ultima volta che O forse perché era notte Forse perché era notte Boh Comunque lo scopriremo Ragazzi Questo è Savage Lens Secondo me È uno dei titoli più interessanti In accesso anticipato Usciti fino a ora Si gioca in 8 Potete già ostare la partita A giocare con i vostri amici Ne può valere la pena adesso Se lo trovate scontato È un bel gioco Valutazione molto positiva Su Steam Però Da partì mi vi dico Aspettiamo un po' di sviluppi L'idea c'è tutta L'avete vista E la cosa più carina È che finalmente Un survival in salsa fantasy C'è dei divertizi Però Diamoli ancora un mesetto Aspettate prima di comprarlo Ma tenetelo d'occhio Perché secondo me Può essere un titolo Ecco veramente molto interessante Ragazzi Spero che questo gameplay vi sia piaciuto Fatevela prendere bene Qui Da questo mondo selvaggio È il freddo È il freddo Che in questo gioco Ci dilania E poi la cosa bella È che in futuro Non ho detto Metteranno anche i dungeon Da esplorare Voglio fare un video Dove do la caccia al drago Per forza Ciao Freddo 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 Freddo